Buongiorno a tutti alla Doc Corromolo e buona domenica a tutti. Giustamente oggi mio padre ha cucinato i fusilli con il ragù di carne. E diamo inizio alle ganze. Da Plescello alla Doc Corromolo, fusilli con il ragù di carne di manzo, cotto e mangiato. Oggi lo mangio tanto a roba, perché ieri ho fatto il porco. Non si capisce quando la cosa ho mangiato poi, stanotte, a stare cotto e mangiato. Buono. Maglio. Oggi c'è una giornata, nuvoloso, eccezio, nuvoloso, eccezio. Ma dovevo prendere un po' di sole. Ma vedi, ora il sole è sparito di nuovo. Così non ti abbrondi. Dopo di questo, io li metto a tornare, a tracchiare. Mi li poto accogliere venire. Beh. E niente. Io mo mi fai... Dopo di questo, mi fumo la sigaretta. Anzi, mi bevo un caffè dopo. Mi fumo la sigaretta. Mi guardo la tv. Quanto a te lo sono, mi metto a dormire. Che me lo fai? Trattiamo sempre il mitico e grandissimo Alessandro, il manager. Buon saluto speciale a tutti i gruppi, alla DOC. Salciamo anche Solimena, Giuseppe, Anna e Giacenè. Buon appetito a tutti. Bene. Ora dobbiamo salutare altre persone. Questa è una cosa che ho fatto io. Un saluto speciale anche a tutto Bari, Taranto, Milano. Eccetera eccetera. Tanti paesi. L'Inghilterra, l'America, la Svizzera. Che bel bicchiere di vino. Dopo di questo, poi non è finito il vino. Poi stasera, beveranno un bicchiere. Perché poi il mio fratello domani lo deve andare a prendere vino. Manneggia la miseria, manneggia. Manneggia la miseria, manneggia senza milio. Senza milio! Senza vino! Oggi, senza vino! Stasera? Su, non faccio, a mezza potere così. E fai un bicchiere di lui, un bicchiere di mio fratello. Poverino. E' un bicchiere io. Poi, c'è una bottiglia grossa. Facciamo. Mella bottiglia a me e mezza bottiglia a loro. E qui, non c'è il vino. Come si fa ad andare avanti? Il vino è il sangue. È il sangue il vino. Il vino, giustamente, è il sangue di Cristo. E il pane che noi mangiamo, o la pasta, è il corpo di Cristo. E allora, uno, se deve bere, quello, per me è il vino, è il vino di Cristo. Perché, perché ora lo sappiamo, io penso che è vero, poi non lo sappiamo, se è il vino, nella storia si dice, questo è il calice del mio sangue, offerto dal Signore. Non si sa se è quello là, è il vino o è il sangue. Secondo me è il sangue. Io penso che tutto qui è il vino. Ragazzi, ragazze, amici, amiche, signore, signore, fratelli, sorelle, un seguito speciale è il gallissimo Marco Delli Bove. Poi un seguito speciale è Antonio Di Vere. Da! No, scusatemi, Antonio Di Vece. Maledetta. Maledetta Primavera. E poi un grandissimo saluto speciale al grandissimo Mauro Ronchi e Leone Bianco alla DOC. E il grandissimo Marco Fratus. Ma, ma, ai! Io vi ringrazio, come sempre, più di prima, vi amerò. Ora, sicuramente, mi degusto. Questo bicchiere delle tenebre pieno di vino, l'Ambrusco Mantovano. Da! Dai! E ci aggiorniamo stasera per la cena. Io vi ringrazio. Ti muovo una buona domenica a tutti. e buon proseguimento di giornata. Vieni, dopo di questo, mi fumo una sigaretta. No, dopo di questo, faccio un caffè. Mi fumo una sigaretta, mi metto a tempo la TV e poi, guarda qui, senti il sacco. Mi metto a croc. Mi metto a dormire. Ah, 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 ah! Ti voglio tanto bene. Buono. Non è tanto fresco. Devon fare. A cu de prizz. Si, mo, si do fresse. ieri mi sono comprato mi sono comprato dei rulli speciali sono piccolini così e dentro c'è lo scotch di colla e le mosche tutte attaccate uno scotch là uno scotch là uno scotch là guardate, guardate le mosche tutte attaccate guardate guardate che meraviglia queste acchiappano le mosche guardate qua, guardate mamma quante mosche guardate e l'ho diviso ecco qua, guardate l'altro bella avete visto? guardate, guardate lo scotch adesivo per le mosche e ora non ho fatto mai la mosche ora la mosche non ho fatto mai è perché c'è la mia città non la vuole come di chi ha voglia di fare la vostra manetta mamma alla doc mi raccomando chi non è iscritto chi non è iscritto sul canale youtube alla doc romano iscrivetevi, grazie chi non è ancora iscritto sulla nuova pagina facebook alla doc romano iscrivetevi e chi non è ancora iscritto su instagram alla doc romano iscrivetevi io vi auguro una buona giornata a tutti arrivederci a stasera per la cena muah a stasera per la cena